Era gremita Sala delle Lapidi, l'Aula Consigliare di Palermo si è riempita nei giorni scorsi per rendere omaggio non soltanto al prezioso lavoro di ricerca storica contenuto nel libro del Cavaliere Mariolino Papalia che contiene elementi storici, alcuni inediti e tutte le tavole genealogiche della Casa Notar Bartolo, ma anche per omaggiare una famiglia che ha segnato pagine della storia italiana e siciliana in particolare. Io molto mi sono rifatto ai vari membri della famiglia per alcune indicazioni, poi naturalmente ho consultato l'archivio di Stato dove è depositato tutto il carteggio riguardante la famiglia Notar Bartolo, però stranamente non ho trovato nulla. Per avere delle notizie fondamentali sulla famiglia ho dovuto consultare l'archivio dei Notar Bartolo di Villa Rosa. Da Ivangen d'Alsazia, valicando lo stivale, passando per il Notarius Bartolo, giù sino in Sicilia per arrivare a rappresentanti noti anche per l'impegno politico e amministrativo, come Emanuele Notar Bartolo che fu sindaco di Palermo e direttore generale del Banco di Sicilia, ucciso nel 1893. Un uomo illuminato e in anticipo sui tempi in cui visse. Una storia che arriva fino ai giorni nostri con Francesco Notar Bartolo, Sandoval e Pignatelli, principe di Sciare e Castellareale, marchese di San Giovanni la Mendola, riconosciuto rappresentante di tutti i rami della casata, custode di una tradizione che è, come spiega i nostri microfoni, soprattutto quella del dovere. In effetti la mia famiglia ha lunghe tradizioni e io cerco di portare sempre con la massima dignità e con prestigio il nome che porto, insomma, nel rispetto appunto dei miei antenati, della casata che io oggi rappresento, che io rappresento non solo il ramo Notar Bartolo di Sciara, ma tutti gli altri, i duchi di Villa Rosa, i principi di Furner, i conti di Salande. Diciamo che sono un po' il capo famiglia di tutta la famiglia. Sono stato vicepresidente e presidente dell'istituto Paragonia, l'albergo delle povere, per due mandati e ho cercato veramente di fare del mio meglio. La ricerca portata avanti da Papalia, che ha prodotto poi questo libro, so che ha riservato alcune piccole sorprese. Difatti ho scoperto che, caro Luigi, noi siamo parenti, siamo cugini. Nel 1500 e qualcosa un Ferrante Perollo di Pandolfina ha sposato una Notar Bartolo. Quindi ho scoperto questo e poi altre parentele, che magari non conoscevo, e il che mi ha riempito di gioia, ecco. La gioia è assolutamente condivisa, ma proseguiamo il nostro viaggio. Una storia che guarda innanzitutto ai continuatori della tradizione, come Gaetano Notar Bartolo, il giovane Alessandro Ciani Notar Bartolo, oppure come a Giuseppe Notar Bartolo di Sciara, scienziato e biologo marino di fama internazionale. Una storia antica eppure moderna, perché è radicata con forza in questo tempo. Quindi è spavente importante.